La storia non è a favore dell'Avellino in quel di Crotone e Biancoverdi, purtroppo in 27 incontri disputati hanno vinto solo 6 volte. Il bilancio totale recita inoltre i 14 successi dei padroni di casa e 7 pareggi. In epoca moderna 3-2 per i padroni di casa nel campionato 2013-2014, Bernardeschi ad aprire il punteggio rimonta a Biancoverde con Zappacosta e Castaldo. Sorpasso crotonese firmato Bidawi-Dezzi, altro stop nel campionato successivo 2-0 con doppietta di Ciano, così come sono arrivati due stop nel 2015-2016 e nel 2022-2023. Mentre l'Avellino ha vinto lo scorso anno con un gol di Paderno per 1-0. Xim Gironde, terzino dei padroni di casa e l'ex della sfida in casa pitagorica, mentre tra i Biancoverdi c'è il centrocampista Alessio Tribuzzi. Il match di questa sera sarà diretto da Claudio Giuseppe Allegretta nella sezione di Molfetta, coadivato dagli assistenti di linea Francesco Romano e Michele Colavito, nessun precedente per lui con i Biancoverdi. Per Emilio Longo, tecnico dei Calabresi, contro l'Avellino 2 Parigi, 2 sconfitte e 3 vittorie. Pesantissimo per lui il 6-1 del partenio lo scorso anno quando era alla guida del Picerno.